Di quanto di autobiografico c'è nel tuo film? Allora, non tanto, perché in verità quasi niente, perché insomma ho pensato che fare un'autobiografia mia non interessasse nessuno, nemmeno forse la mia mamma. Allora, niente, però il crudo, il gruppo del film ha qualcosa in comune, sì, perché diciamo che gioca nello stesso campionato, nello stesso campionato in cui ho giocato io, cioè quello dei gruppi rock di provincia che non sfondano, diciamo solo questo, in verità poi non c'entra nulla, è tutta quella fantasia. Com'è portare un film come questo al Torino Film Festival? Beh, devo dire che è un grande onore, visto che il Torino Film Festival è un festival importante, con dei film importanti, per una commedia essere in mezzo a tanti titoli è già un onore esserci, è già una vittoria. E poi un'altra domanda, hai realizzato il tuo sogno, ovvero di creare un film commedia stile Blues Brothers? Beh, ci ho provato, diciamo che i modelli sono altissimi e non si vuole arrivare a tanto, però insomma mi basterebbe anche solo un 1% di quell'energia lì, quindi in parte per un 1% forse ci sei riuscito, non lo so. Grazie mille. Grazie a voi.